Entra nella fase operativa il progetto Green Community Magliella Verde al quale hanno aderito sette comuni del comprensorio Sangrino Peligno, Pacentro, Canzano, Pettorano Sul Gizio, Campodigiove, Roccapia, Rivisondoli, Pesco Costanzo. E proprio in quest'ultimo borgo presso l'auditorium San Nicola si è tenuto stamane il terzo tavolo di lavoro finalizzato ad aprire una discussione sulle nuove opportunità per il turismo locale. 3.490.000 euro i fondi stanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il futuro dunque passa attraverso il turismo sostenibile. A coordinare il progetto il professore Luca Dallalibera, direttore dell'Agenda 21 Consulting. L'obiettivo è quello di certificare le attività di turismo sostenibile perché sempre di più si parla di turismo sostenibile, le persone dicono che promuovono la sostenibilità del turismo. Certificare un'attività turistica significa rispettare dei criteri che vengono decisi insieme dalle comunità per le quali alcune attività, alcune esperienze e alcuni pacchetti turistici che poi verranno messi in vendita rispondono proprio alla domanda di chi sempre di più cerca un'esperienza di sostenibilità attraverso la visita e attraverso un periodo di riposo. Per sviluppare un linguaggio comune sulla sostenibilità nel turismo sono stati costruiti criteri sulla base di decenni di lavoro ed esperienze precedenti in tutto il mondo. Pesco Costanzo, comune capofila abruzzese del progetto europeo Sass Towns, già si trova in una fase avanzata, essendo inserito nel circuito di promozione turistica attraverso l'associazione Borghi più belli d'Italia. Ma l'amministrazione guidata dal sindaco Sciullo mira ad allargare gli orizzonti in una logica sinergica con operatori turistici, produttori agricoli, associazioni, imprenditori e istituzioni. Filosofia sposata in pieno anche dal vicino comune di Rivisondoli. Una grossa scommessa che abbiamo fatto come territorio partecipando a un bando europeo della presidenza del Consiglio dei Ministri dove francamente non molti avevano scommesso su questo progetto ma lavorando seriamente siamo riusciti ad arrivare primi con un finanziamento se non ricordo male di circa 3 milioni e 300 mila euro. Oggi inizia questo viaggio che durerà non moltissimo perché entro il 2026 dobbiamo rendicontare tutte le somme. Parte con quello che per noi è più congeniale, il turismo. Ma che tipo di turismo? Un turismo sostenibile, un turismo green per l'appunto, un turismo ecologicamente compatibile e attuabile. E quindi parte con un percorso che dovrebbe condurre alla carta europea del turismo sostenibile e perché no alla certificazione GSTS di questo territorio. Vogliamo rafforzare quello che già abbiamo ampiamente illustrato lo scorso anno con Sass Towns, un concetto che lì era prettamente riferito a Pesco Costanzo. Questa è un'opportunità ancora più bella da cogliere perché è un modo per fare rete, rete con i comuni della zona, quindi ampliare le possibilità turistiche. Il futuro è green, il futuro è turismo di rete. Dobbiamo crederci, dobbiamo collaborare, possono nascere nuove opportunità. Bisogna appunto cominciare a pensare soltanto in questo modo.